Il tentativo disperato da parte del Presidente Fabrizio Cesetti di salvare la provincia dalla soppressione del governo ed il folclore marinaro di Porto San Giorgio sono stati i due temi che la giuria ha maggiormente apprezzato nel Carnevale 2012 di Porto San Giorgio. Tra i carri allegorici infatti a spuntarla è stato quello della contrada Capodarco e Centro Sociale San Marco con proprio mo' che mela acidata. A secondo posto la contrada Torre di Palme con il suo Carnevale in Mexico, terzi classificati quelli di Campolegge con il CSI Campolegge. A sfilare anche i carri di Jonas Bibini & Company con gli scrociati, il centro ricreativo Don Bosco di Porto San Giorgio con il Royal Wedding tra William e Kate. La contrada Campiglione con Calimero e i suoi amici, la contrada Fiorenza con di tutti i colori e quella di Molini Girola con i Ghostbusters, gli Acchiappa Evasori. Tra i gruppi mascherati si diceva a primeggiare sono stati i bambini della scuola primaria capoluogo di Porto San Giorgio con Cerana o Talasciabica. Secondo i classificati quelli della scuola dell'infanzia San Gaetano con Libri Amoci sulle ali della fantasia, terzi quelli del centro per l'infanzia Sarabanda di Porto San Giorgio con Papaveri e Papere. A sfilare anche i bambini della scuola primaria Borgorselli, noi leghiamo in allegria la scuola dell'infanzia capoluogo con San Giorgio e il Drago e la scuola dell'infanzia Maddalena di Canossa con Alice nel Paese delle Meraviglie, con loro anche i bambini del centro per l'infanzia Mickey Mouse con i puffi in bicicletta. Il carnevale 2012 dunque si chiude con un buon successo di pubblico nonostante le temperature molto basse che si sono registrate nel pomeriggio del carnevale di Porto San Giorgio nel centro della città. Grazie a tutti.